Io sono il saluto da tutti, grazie per le belle parole che ha detto e richiedo un saluto di amicizia a tutti quanti. Molto piacere, saluto tutti quelli che ci ascoltano, ci ascolteranno, siamo animati veramente da un grande ottimismo, da una grande speranza dopo aver ascoltato e vissuto questo momento. Vi invito tutti ad associarsi alle tante iniziative di bene che sono presenti nel mondo, non restiamo più nel nostro mondo ma mettiamoci a disposizione. Grazie, con eminenza le regalo la manina del saluto a tutti che sono io per salutare tutti quanti i fedeli e tutte le persone che hanno bisogno. Ciao, grazie.